Piras è andato a guantanare, si raccocina a te, Pagli gira. Buona buona con la prima posizione di Stefano, Piras è con Anacleto, Piras è in prima posizione con Anacleto che però invece va un po' grande, la prima è che ha retto Pagli in questo momento con fare il boom. La seconda per Bosea con Antonio Siri, quindi c'è Charlie Brown con Giuseppe Zed, prova comunque ad attaccare Stefano Piras con Anacleto, il leg grigio. Per linea esterna c'è Stefano Piras, la prima ora è ancora per Tocagli, la seconda è in prima per Antonio Siri con Bosea. Bosea, bella corsa con ancora a condurre Adriano Tocagli, Tocagli e Cari il boom. La seconda è per Antonio Siri con Bosea, dall'esterno sollecita Anacleto, Stefano Piras, ma Giuseppe Zed che per linea esterna con Charlie Brown. Ultimo giro. Posizioni, Charlie Brown in seconda posizione in questo momento affiancato ad Antonio Siri che prova ad attaccare dall'esterno con Bosea. Antonio Siri sollecita Bosea all'esterno ma c'è ancora Cari il boom con Adriano Tocagli che in prima posizione. Siamo nella retta che precede l'arrivo con Adriano Tocagli che va a vincere su Antonio.